Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego dove trovare questa fiamma spettrale esplosiva dirigetevi qui in questo posto per raggiungere questo posto guardate uno dei miei video su come subloccare l'albero sacro basta trovare dei pezzi del medaglione, collegarli e portarli al montacarichi quindi adesso vi porto lei a prendere questo incantesimo della fiamma spettrale esplosiva proprio qui e là in cima alla vostra sinistra c'è la chiesa voi non dovete fare altro che riposare qui e accelerare il tempo fino ad arrivare alla notte mi raccomando equipaggiatevi bene perché andremo a sconfiggere questo boss che non ti puoi neanche avvicinare a lui perché non si sta un attimo fermo quindi l'ho dovuto uccidere con la magia e certe volte vabbè l'ho pure attaccato con la lama ma vi consiglio più di usare la magia raggiungendo questo posto qua vi posizionate qui e aspettate che arrivi eccolo qua l'uccello del... eccolo qua l'uccellaccio di merda che sono morto 20 volte per ammazzarlo per provare alcune mosse e niente questo bastardo non si stava un attimo fermo con la magia gli ho fatto già un sacco di danno come potete vedere guardate le sue mosse da rompicazzi proprio guarda non si capisce niente quando provi a mettere l'automina solo la magia ho usato ecco colpo in testa un colpo in testa un colpo in testa proprio questa mossa da infame ecco ecco la mossa da infame con la fiamma a terra non ti puoi neanche avvicinare a lui quando devi colpirlo attenzione anche a queste scie qua che lancia con due colpetti e l'ho ammazzato eccolo qua e poi mi ha dato 400... quante rune? mi ha dato 440.000 rune più l'incantesimo fiamma spettrale esplosiva adesso andremo a provare questo incantesimo guardate un po' cosa fa però se ti metti al centro e intorno a te ci sono tutti questi nemici usi questa bella fiamma spettrale esplosiva fa veramente un sacco di danno quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo lasciate like scrivetevi al canale attivate anche la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao